buonasera sono maria rosa bersanetti oggi sono leggermente più in ritardo per finito di fare delle cose nel centro riprendiamo il nostro corso online di pratica del dharma della meditazione già ho dato dei piccoli compiti su come condurre una meditazione quotidiana divisa in varie tappe della giornata cercando di comprendere i meccanismi del positivo da ripetere durante il periodo della giornata e anche di memorizzarlo proprio nel nostro inconscio nella nostra mente in modo che diventi più stabile ci sono molti allenamenti nel dharma che ha insegnato buddha poi ci sono anche molte cose che si possono anche affiancare proprio a quello che la tecnologia la psicologia la cuore della mente è molto essendo molto molto complesso il nostro i nostri meccanismi interiori spesso dobbiamo proprio un po adattarci a creare delle situazioni di aiuto con varie strategie il silenzio e la calma prima prima cosa perché chiaramente nella confusione nel trambusto un po difficile vedere chiaro è come quando noi muoviamo tanto l'acqua in uno stagno diventa torbida e non possiamo vedere il fondo stessa cosa anche la nostra mente e va prima calmata può essere varie strategie possiamo vedere quello che anche soltanto cose che ci ci fanno piacere fare tipo non so vedere un bel film anche delle volte può essere questo un metodo oppure non so c'è chi piace coltivare dei fiori c'è chi piace fare delle cose manuali dipingere per esempio o suonare uno strumento musicale e molti noi abbiamo degli hobby spesso gli hobby sono considerati qualcosa che non sono obbligatorio fare gli scegliamo noi e questa opzione di scelta è sicuramente molto molto bello per noi per per creare questo spazio spesso ci sentiamo obbligati a fare molte cose e quindi creare questo spazio per le cose che ci piace fare può essere anche un rimedio per creare questo spazio interiore che noi stiamo cercando di creare di amplificare quindi abbiniamo la nostra attenzione sempre come abbiamo detto anche in precedenza con quello che è il nostro stato interno ricapitolando al mattino noi facciamo la nostra meditazione creando un momento di impostazione della nostra giornata e decidiamo un po qual è il percorso della giornata vedendo gli aspetti positivi che noi vogliamo coltivare escludendo quello che non non ci riguarda quello che comunque crea una disarmonia ci crea una situazione di disagio e fatto il disagio è il primo sintomo che qualcosa non funziona quindi sentendo queste cosa succede dentro di noi possiamo in questo modo creare la condizione migliore durante la giornata poi non serviamo alla nostra mente quando svolgiamo le nostre attività vediamo che tipi di reazione alla nostra mente che come reagiamo con le persone che tipo di agio o di insofferenza o comunque vediamo quando subentrano gli atteggiamenti di attaccamento rabbia o avversione e li notiamo senza dover criticare o pensare oh guarda come sono stato al destro mi è venuto questo pensiero che non volevo che venisse ecco queste cose no perché non sono costruttive la cosa più complessa nel meccanismo della nostra mente di osservarla senza intervenire con qualche commento qualche giudizio cioè probabilmente il giudizio è quella più più difficile da togliere ma anche nello stesso tempo è quella che comunque va ma man mano abbandonata in modo che noi possiamo avere spazio interiore bene poi abbiamo anche consigliato di fare prima del pranzo una specie di piccola meditazione col silenzio osservare la nostra mente riprendere un po la nostra integrità interiore con il nostro silenzio poi abbiamo anche visto che nei pomeriggio si possono fare delle attività essendo però magari la mente un po impegnata e poi magari può subentrare anche della stanchezza possiamo anche non riuscire a tenere sotto controllo cosa esce da noi ecco quindi ci vorrà qualche strategia in più tipo fare qualche attività fisica osservando che cosa noi facciamo tipo quando camminiamo dare attenzione ai passi e movimenti che svolgiamo cosa che spesso si fa in modo automatico senza senza pensare che cosa succede a meno che noi non ci facciamo male allora dobbiamo fare attenzione quella parte del corpo in modo che non abbia disturbo in modo di preservarla e qui dovevamo fare un po la stessa cosa però stando stando sani non dovendo avere dei problemi di qualche tipo ma unicamente allenando esercitando la mente che osserva e sente il proprio corpo sente cosa succede e sente le reazioni interne sente da più importanza a questo universo interiore che abbiamo all'interno del nostro corpo c'è veramente un'infinità di di esseri piccolissimi che lavorano per noi lavorano costantemente abbiamo una chimica che lavora in modo perfetto in modo inequivocabile senza che noi gli diciamo lavora loro tutto questo movimento questo universo lavora incondizionatamente senza dover chiedere nulla a meno che noi non lavoriamo controcorrente al nostro corpo fisico e allora succede che ci amaliamo se gli diamo e gli diamo l'importanza giusta dando quello che ha bisogno e osservandolo avendo compassione principalmente del nostro corpo fisico e amandolo e vedendo cosa veramente bisogno lui sicuramente si riprende anche facilmente se siamo ammalati si riprende più con facilità anche dalle situazioni più brutte perché comunque abbiamo veramente una infinità di possibilità di risorse a livello fisico a livello della natura come anche la natura esterna e la natura che noi vediamo dell'ambiente in cui viviamo se la rispettiamo gli diamo incominciamo a dargli il rispetto e l'equilibrio che ha bisogno per poter stare tranquillamente fare la sua il suo andamento naturale si riprende facilmente anche se abbiamo sporcato molto con l'inquinamento abbiamo creato diversi disastri con l'ambiente se respira la natura gli lasciamo che si possa riprendere chiaramente ci può ridare tutto quanto senza dover preoccuparci molto quello che chiaramente dovremmo pensare di creare fare in modo una situazione tale di impegnarci a lasciare pulito l'ambiente a lasciare tutto molto il suo spazio naturale senza dover interferire troppo con i nostri egoismi con quello che prendiamo al di là di quello che ci è dovuto come come situazione in cui viviamo quindi è tutto un sistema di riequilibrio quello che vi invito a fare di creare una situazione di armonia con l'ambiente con se stessi osservare che tipo di reazioni e di corpo parole mente legata all'attaccamento legato all'odio legato alle ai sentimenti che creano disarmonia qui quei veleni mentali che creano la sofferenza e chiaramente non spesso può essere anche un lavoro un po spiacevole perché se un abituato a fare certe cose in un certo modo pensa che va bene così e però bisogna anche vedere che cosa c'è di vantaggio migliorando la propria condizione se prima abbiamo sempre pensato che siamo delle persone divise dagli altri che ogni persona alla sua isola indipendentemente da tutto il resto questo è questa visione erronea porta poi a soffrire perché comunque noi abbiamo sempre bisogno di tutti non è possibile che siamo divisi dagli altri perché comunque abbiamo una interdipendenza siamo dipendenti da tutto non parlo alla dipendenza da dal cioccolato per dire la cosa più semplice o tutti i vizi che noi ci siamo abituati a coltivare al di là di quello che è veramente il nostro bisogno comunque come surrogato a quello che veramente potrebbe essere la soddisfazione la pagamento la soddisfazione e quindi si tratta di creare una situazione di riequilibrio servandoci e vedendo momento per momento ripulendo quello che che non serve quello che comunque è in più o che comunque ingombra se noi abbiamo una stanza in cui è tutto pieno non possiamo farci entrare niente e quindi se proprio non vogliamo distaccarci dalle cose io per esempio posso dire ah faccio teatro quindi mi tengo tutti i vestiti di che è possibile perché se poi viene quella parte da fare in cui faccio il carabiniere devo avere il vestito da carabiniere se faccio non so questo può essere una scusa per chi fa teatro che è un grosso magazzino e allora beh c'è un bel magazzino dove tenere tutti questi costumi tutti questi vestiti e all'occasione viene poi utilizzato non è questo il caso quindi pur diciamo potrebbe esserci anche un pur ma se poi più uno non ha bisogno di tutta questa roba può anche distribuirla e darla via se proprio non fa tutto questo teatro in cui ci vogliono tante cose tanti oggetti per poter fare delle attività di questo tipo però quello che mi riferivo è appunto le cose proprie le cose proprie che usiamo gli aromadi pieni di cui anche io ne ho diversi aromadi in casa però teatro però chiaramente fare un inventario che fra l'altro è quello che noi stiamo facendo adesso nel centro inventariare mettere in ordine e catalogare sistemare tutto quello che serve con quando serve è molto importante perché questo mettere ordine crea comunque una situazione interiore di chiarezza è come se noi mettessimo l'acqua torbida a depositare e vediamo cosa c'è nel fondo e quindi proprio questo lavoro costante quotidiano può aiutare a chiederci anche che cosa mi serve che cosa non mi serve cos'è che non mi è utile cosa è importante nella vita che cosa per esempio adesso abbiamo tutti quanti bisogno di fare la spesa magari la facciamo online io per fare una spesa online ci ho messo non dico mezza giornata però un po' perché solitamente vai al supermercato prendi qua prendi là ed è più facile vedi tutto lì poi magari sai dove vai a prendere le cose fai la spesa però quando uno fa online cosa compro come lo compro e quali sono i prodotti che sono più o meno simili a quelli che ho visto nel supermercato come devo gestire questa cosa non deve un po' organizzarsi e chiaramente nella vita è un po' la stessa cosa bisogna un po' organizzarsi in modo tale di vedere effettivamente quello che c'è bisogno è quello che va comunque abbandonato nella vita c'è sempre da abbandonare qualche cosa che è sconveniente perché comunque se si lascia spazio possiamo poi lasciare spazio a quello che veramente ci serve su questa chiacchierata che vi ho fatto oggi direi di fermarmi qui possiamo andare avanti ancora un po' se vi piace volentieri continueremo anche a chiacchierare vi racconto anche delle storie se poi avete piacere di ascoltarle mandatemi qualche vostra considerazione a vostro piacere non le parolacce perché ovviamente le cose che abbiano un senso in modo che possiamo anche un po' dialogare bene facciamo qualche minuto di meditazione assumiamo quindi la posizione come consigliato sempre la colonna venterrale dritta respiriamo profondamente e ispirando lasciamo cadere i pensieri negativi rilassiamo rilassiamo visualizziamo di fronte a noi guru butta seduto su un trono d'oro tempestato di gioielli preziosi sostenuto da otto leoni rampanti un posto meraviglioso pieno di fiori montagne verdi c'è il sole la luna tutto molto bello verteggiante guru butta guru butta al cuore una lettera um al cuore alla gola la lettera a e al capo la lettera a om a hum sono i simboli di corpo parole mente emana raggi di luce e ambrita che emana energia positiva eliminando tutte le sofferenze di tutti gli esseri senzienti la saggezza infinita un ettare che completamente elimina qualsiasi forma di sofferenza nel samsara prendiamo rifugio nel guru butta con i tre preziosi gioielli buddha, dharma e sangha buddha è il maestro dharma all'insegnamento sangha sono gli amici spirituali e tutti i praticanti spirituali namo gurubya namo buddha namo dharma e namo sangha namo gurubya namo buddha namo dharma e namo sangha Sviluppiamo il buon cuore affinché tutti gli esseri senzienti possono ottenere la felicità suprema. Sviluppiamo il buon cuore affinché tutti gli esseri senzienti possono ottenere la felicità suprema. Sviluppiamo il buon cuore affinché tutti gli esseri senzienti possono ottenere la felicità suprema. che elimina completamente tutte le ostruzioni mentali e le insoddisfazioni con le sofferenze. Nel cuore gira in senso orario il mantra di Guru Buddha Sakyamuni. Sviluppiamo questa visualizzazione mentre recitiamo il mantra. Om Muni Muni Maha Muni Sakyamuni e Sova. 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 Om Muni Maha Muni Sakyamuni e Sova. Om Muni Maha Muni Sakyamuni e Sova. ellerno del nostro capo depositandosi all'interno del nostro canale centrale fino al nostro cuore. Li rimane stabilmente in modo continuativo. Abbiamo così Guru Buddha che rimane nel nostro cuore. dedichiamo i meriti di aver fatto questa meditazione affinché tutti gli esseri senzienti possano ottenere la completa guarigione, la completa illuminazione e possano liberarsi dalle sofferenze della samsara possa questa epidemia che ora è in corso essere risolta ogni malattia possa essere completamente debellata e possa esserci solo cause di felicità e di beatitudine in tutti gli esseri senzienti che va di nyur duta, jetsur drolba druggione, roba cinja malupa, te isala copaccio chan-chun seng-chun rin-po-che, ma-gye-pa-nang-gye-nge-nge-chi jen-pa-nye-pa-me-pa-ya, gond-de-gond-du-pe-l-bu-a-l-sho grazie della vostra attenzione provate a fare gli esercizi che vi ho consigliato e poi mi dite anche la vostra esperienza potete anche scrivere nel sito potete mandare le vostre considerazioni e fare delle domande, chiaramente vi abbraccio forte forte e ci vediamo domani ciao